Ed eccoci alle immagini di Wattershy, 1893 Copenhagen, hanno vinto i belgi per 4 a 1, i belgi che qui vediamo andare in gol con un gran tiro di Janssen, che fra un po' rivediamo, qui il colore non è dei migliori, non c'è la nebbia, però c'è il colore che non funziona molto bene e va e viene, non smanettate sul televisore, non è colpa del vostro apparecchio, sono proprio le immagini che sono arrivate così, non nella migliore condizione. Ecco il raddoppio di Janssen, lo standard qui è in vantaggio per 1 a 0, aveva già vinto a Copenhagen, l'ha andata per 2 a 0, quindi è stata quasi una passeggiata della squadra che sabato scorso aveva perso contro lo standard Liegi, che l'aveva eliminata, ma si è presa la rivincita in campo internazionale, lei continua ad andare avanti nelle coppe, lo standard ha trovato il grande Paolo Rossi di ieri sera ed è stato eliminato. Qui è l'azione del calcio di rigore, vedete Gudmundsson, un islandese che si è molto ben comportato ieri, viene atterrato, Plesser batte il calcio di rigore, trasforma agevolmente e eccoci al 2 a 0 per il Wattrashai. Ecco la trasformazione perentoria. Il Wattrashai l'anno scorso aveva vinto la Coppa del Belgio e appunto sabato scorso è stato eliminato dalla Coppa del Belgio di quest'anno, dallo standard. Ed ecco Gudmundsson, l'abbiamo visto prima, atterrato questa volta nessuno lo atterra, fa in tempo a completare molto bene la sua azione personale con il gol. Molto bravo questo Gudmundsson. Ogni tanto dal freddo dei paesi nordici arrivano dei buoni giocatori, questo Gudmundsson è sicuramente da seguire. Ecco la ripetizione del suo gol, che è il terzo del Wattrashai. Nella ripresa arriva anche il quarto gol. Jansen, che aveva segnato il primo gol, inizia l'azione. C'è un errore clamoroso della difesa del Copenhagen, però è molto bravo Fliegen a approfittare. Errore colossale del numero due del Copenhagen, però molto bravo Fliegen ad approfittare con un bel sinistro prontissimo da posizione angolata. Grande errore, ma grande bravura ugualmente di Fliegen. Siamo sul 4-0, a due minuti dalla fine arriva anche il gol di Dallasborg, che fissa il punteggio sul 4-1. In una maniera platonica per finire questo incontro, il Wattrashai si qualifica alla grande. Ecco il gol danese, dovrebbe esserci appena il tempo della ripetizione di questo gol. E serve soltanto dal punto di vista statistico. Ecco l'azione. Gol di Dallasborg, Wattrashai batte Copenaghen 4-1.